Vuoi crediti per giocatori come questi? FIFA coinzone. Trovi link e codice coupon qui in descrizione. Prova a sorprenderlo. Super Mario Balotelli. E c'è il gol. Bentornati ragazzi. Giovi HD Spoh. Io sono Giovi Spoh e come avete ben sentito ho cambiato la mia intro perché a lungo di andare scoccia. E in seguito credo che la cambierò sempre in quasi tutti i video. Comunque questo è il video del Balotelli. Dervenger numero 5 se non erro. Mi state vedendo acquistare i contratti perché servono. Servono come il pane. I contratti senza contratti. Quando un giocatore finisce i contratti rimane senza contratto. È un gioco di parole. Scusate la mia puttana. Ma va bene così. Ora inizio ad acquistare i giocatori del Liverpool. Questi sono anche giocatori italiani. Prima acquisto del Liverpool è Johnson. Glenn Johnson, terzino destro, 76 di overall. Non è fortissimo, non è cessissimo. Nella media. Poi acquisto anche Lambert. Questo è un attaccante lento ma molto potente. Molto molto forte. Con un 80 di tiro. Un 78 di passaggi se non erro. Poi vado ad acquistare i giocatori italiani. Sono il primo Marchese, difensore centrale italiano del Genoa. Il prossimo è Pisano, terzino destro italiano del Cagliari. Pagato 2.200, non tantissimo. Il prossimo è Bertolacci. Cicci del Genoa anche egli. Ed è un italiano. Pagato 1.000 crediti. Non so perché costa così tanto ma costa 1.000 crediti. Questa è la squadra. Vedete? Abbiamo questi giocatori. Giocatori che non si possono mettere. Giocatori quelli sperimentali. E infatti la squadra avversaria non era composta da quei giocatori ma da altri giocatori. Il primo gol è Mario Balotelli. Molto molto bene. Però poi c'è il gol di Barbo. Vedete? I Barbo? Quella non era la... Quella che avete visto non era la squadra avversaria. Poi c'è anche il raddoppio con Ibarbo. Sempre se non hai Barbo non vinci le partite. Così dovrebbe... Intanto passa anche un aereo. Cioè assurdo. Proprio mentre devo registrare. Comunque fa 3 gol di Barbo per il 3-1. Balotelli andrà a battere questo calcio di rigore per il 3-2 ragazzi. Il 3-2 è il doppietto di Mr. Mario Balotelli. Super Mario Balotelli come avete sentito dalla nuova intro. So che non è bellissima l'intro. Però voleva farla originale. Comunque la partita termina qui. 3-3 tripletta di Barbo e tripletta di Balotelli. Totale in questo episodio 3.500 crediti da aggiungere. Prossima partita... Prossima partita... Prossimo acquisto è Morleo. Sterno-sinistro italiano. La prossima partita è contro un'altra italiana. Buffon, Criscito, Bocchetti, Astori, Maggio, Cigarini, Rossi, Pirlo, Falcone, Insigne e l'esterno-nobistro. Comunque il primo tempo termina così sul 0-0. E anche la partita finisce dunque 0-0. Niente da fare. 500 crediti da aggiungere per il pareggio. Prossima partita è una squadra. Niente di che abbiamo Felipe Santana, Adler, Bender, Immobile, Son. Niente di particolare. Primo gol arriva con il solito Super Mario Balotelli di testa su corner di Darmian. Un gol, bene, 1-0. E poi in seguito ci sarà il pareggio di Ciro, Immobile per 1-1. Qua un contropiede velocissimo con Okaka e Balotelli che segna così al 70esimo minuto per il 2-0 con una bella doppietta. Assist di Okaka ancora per Balotelli che allunga con il tetto e segna al 78esimo minuto. Finisce dunque così la partita molto bene. 3-1 triplette di Balotelli a 3.000 crediti, più 1.000 crediti, 4.000 crediti da aggiungere. Il totale netto in questo episodio è 1.600 crediti perché ho fatto i vari acquisti. Totale budget in tutto questo episodio, fino a questo episodio, di 22.800 crediti. I gol fatti da Balotelli sono 32 ragazzi, 32 gol. Dunque, se l'episodio vi è piaciuto, un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale e ci sentiamo al prossimo video ragazzi. Ciao ragazzi!